Conversazioni migliori, come facciamo ad avere delle conversazioni migliori? Me lo chiedevo l'altro giorno mentre mi andavo in culo uno sui commenti di non so dove, che sparava le sue solite robe vergognose, infatti la mia risposta è sempre vergognati, vergognati, ma non vi vergognate mai! Prima di commentare avete l'arroganza di commentare senza neanche guardare quello che uno ha fatto in video, ma non avete l'umiltà e la pazienza di perdere tre minuti ad ascoltare prima di sputare fuori le vostre sentenze. Allora ragionavo su come poter avere conversazioni migliori con i miei haters e non haters e mi sono incocciato in questo Paul Grice, filosofo che ammetto non lo conoscevo, e ha quattro massime utili su come si possono avere delle conversazioni migliori, su come si può comunicare meglio se ti vuoi fare capire dagli altri. Se non ti interessa capire dagli altri, non usarle. Massima numero uno, ricordiamo che sono delle linee guida, non sono dei concetti rigidi, e uno li applica come vuole. Massima numero uno di Mr. Grice dice quando comunichi devi essere informativo, cioè devi darmi tutte le informazioni necessarie, ma non più di quelle necessarie. Il motivo spesso, scusate copro lo sponsor perché non voglio, se nemmeno uno dice cosa ho sponsorizzato, a volte ho il logo e non me ne rendo conto. Spesso il motivo dell'insopportabilità del nostro interlocutore è che ci continua ad aggiungere dati totalmente irrilevanti. Grice fa l'esempio della strada, quando uno chiede indicazioni stradali dovrebbero essere giuste, informative, ma non puoi avere uno, come spesso succede, che è lì che ti fa la storia di Google Maps che è in confronto lui, cioè dimmi dove devo andare, però non puoi neanche dirmi guarda vai dritto, cioè no dammi un'indicazione precisa e informativa, ma non esagerare. Massima numero due, di la verità. Di la verità e quando non sei sicuro metti davanti agli occhi e orecchie degli interlocutori il fatto che non sei sicuro di quell'argomento. Ad esempio nello scandalo che c'è stato NBA-Cina con tutto il casino sull'appoggio delle proteste di Hong Kong da parte di un general manager di una squadra e a questo punto l'NBA è uscita facendo prima delle scusette, poi ritrattando. In quel caso c'è un problema di verità. Alla base di quella conversazione così problematica c'è il fatto che non viene detta la verità. La verità è vogliamo solo il grano, non vogliamo perdere 4 miliardi di dollari che fatturiamo sul mercato cinese, non vogliamo perdere tutto quello che è l'indotto dei fan cinesi che sono centinaia di milioni. Fantastico. Ma siccome non lo posso dire, devo in comunicazione dire un sacco di vacate clamorose per dare un colpo al ciechio e un colpo alla botte. Alla base dei fatti manca la verità. Massima numero 3 del manuale delle giovani marmotte graissiane è la rilevanza. Dare informazioni rilevanti in base al contesto, in base a quello che ti è stato chiesto che è il principale difetto del 95% dei miei video. Perché? Perché? Perché ogni due minuti parlo di ping pong, che non c'entra una mazza con tutto il resto, però mi piace così. Ma Grais mi piglierebbe per le orecchie e mi girerebbe come un calzino, come disse una volta il professore di, non so, diritto costituzionale credo, Montemagno, ti giro come un calzino. In effetti non saprei una mazza, c'era ragione lui. Chiudiamo con la quarta massima che è la più importante. In pratica bisogna essere chiari. Ed è il problema di tutti i comunicatori che io vedo nel mondo delle aziende. La chiarezza ha tre requisiti. A evitare gergo incomprensibile, inglesismi impossibili, tecnicismi impossibili. B essere concisi su cinti. C, non chiede un nome ricordo, C. A esporre le tue informazioni, i tuoi concetti in modo ordinato. Andate ad ascoltare uno che fa una presentazione di qualunque settore. Magari i concetti sono anche esposti in modo ordinato, ma fateci caso, sono sempre incomprensibili perché parlano a sigle, Belin, un gergo che ti serve tra i dizionari di ammaranto tecnologico per capire che cazzo stai parlando, e poi sono sempre lunghi. Parlano, spataffiano, spataffiano. Invece concisi, concisi. Erano queste qua, le quattro massime. Oh guys, se ti servono bene, se non ti servono... Insomma, spero ti servano.